Partiamo col fatto che mia zia ha trovato questa gallina con i bulcini Io ho deciso di crearmi un pollaio per quando cresceranno Ho iniziato a crearlo, ho fatto questa cosa più o meno, è venuta più o meno bene Le galline sono cresciute, hanno iniziato a fare le prime uova Stavano crescendo un sacco bene, cioè tipo molto bene Poi è passata la volpe e me le ha uccise tutte tranne lui Visto che mi faceva pena, un sacco pena, le ho preso altre galline, così scopa E fanno le uova, ma un giorno porco Dio non trovo un cazzo Perché non fate le uova bastarde, vi do da mangiare, avete tutto quello che volete Va pure il gallo che vi scopa e non trovo le uova Penso che qualcosa me le fotta o qualcosa me le mangia, quindi metto la telecamera Tutto il giorno, non filma un cazzo Controllo, sparite di nuovo le uova La metto internamente, una gallina, due galline, di nuovo una gallina Qua faccio il fermo immagine perché adesso inizierò a bestemmiare tantissimo In pratica sto producendo uova per un cazzo di corvo In pratica sto producendo uova per un cazzo di corvo In pratica sto producendo uova per un cazzo di corvo In pratica sto producendo uova per un cazzo di corvo In pratica sto producendo uova per un cazzo di corvo In pratica sto producendo uova per un cazzo di corvo In pratica sto producendo uova per un cazzo di corvo In pratica sto producendo uova per un cazzo di corvo